ciao oggi si prova a fare l'esercizio strain di exercism in airlang come sempre la stessa premessa sto studiando il linguaggio per cui se dico in esattezza faccio errori o volete commentare migliorando il codice che scrivo non esitate fatelo nei commenti sotto al video bene ho già scaricato l'esercizio quindi i file ci sono tutti e possiamo leggere le istruzioni implementare le operazioni keep discard su sulle collezioni dato una collezione e un predicato sugli elementi della collezione keep ritorna una nuova collezione contenente quegli elementi per cui il predicato è true mentre discard ritorna una nuova collezione contenente quegli elementi per cui il predicato è false per esempio data la collezione di numero 1 2 3 4 5 e il predicato è il numero un numero pari allora la l'operazione keep dovrebbe produrre 2 e 4 mentre l'operazione discard dovrebbe produrre 1 3 5 quindi è filter c'è nella libreria standard in realtà immagino si debba implementare questo non utilizzando la libreria standard notare che l'operazione union di keep e discard rappresenta tutti gli elementi le funzioni potrebbero essere chiamate keep e discard o potrebbero aver bisogno di nomi differenti per non collidere con funzioni esistenti nel linguaggio che viene usata per fare l'esercizio restrizioni ecco non praticamente dice di non usare filter reject o qualsiasi altra funzionalità che è già fornita dalla libreria standard del del linguaggio perfetto quindi possiamo mandare il browser nella doc e a perché vi voglio mostrare prima quello che offre la libreria standard per cui apriamo una shell di erlang e proviamo filter della libreria standard nel modulo lists che accetta in ingresso un predicato e una collezione al app e predichiamo il predicato lo scriviamo dopo la collezione che faceva nell'esempio era 1 2 3 4 5 il predico come predicato possiamo usare una funzione anonima quindi fan che accetta come argomento ogni singolo elemento della lista quindi lo chiamiamo x e questo predicato deve tornare true false set si torna true x viene incluso nella collezione restituita dalla filter altrimenti viene escluso quindi x modulo 2 uguale uguale a 0 è un'espressione che risulta true o false e quindi fa sì che x venga incluso meno nella lista risultante e come vedete ottengo solo numeri pari mettendo un operatore di diseguaglianza ottengo solo numeri dispari un'altra cosa da notare che questo 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 tipo di operazioni si può fare con si può effettuare con le list comprehension che sono estremamente secondo me leggibili e ancora più su cint di di questa sintassi con con le funzioni anonime e la sintassi è questa quindi vogliamo ottenere una nuova collezione dove x ogni x presa da una collezione che gli passiamo quindi 1 2 3 4 5 e poi separati da virgola possiamo definire le condizioni che fanno sì che x venga incluso meno ad esempio x modulo 2 uguale uguale a 0 indica che quando questa espressione è true x viene viene presa altrimenti no e otteniamo lo stesso risultato di prima possiamo anche aggiungerne altre di clausole vogliamo ogni x che sia maggiore di 2 no minore di 2 scusate e dovrebbe risultare una lista vuota ogni x che è maggiore di 2 abbiamo 4 perché 2 è uguale a 2 queste clausole qui sono combinate con un and logico quindi devono essere soddisfatti tutti tutte queste espressioni per perché x venga veramente presa quindi questa sintassi estremamente potente e molto bella molto molto succinta ok a questo punto l'esercizio si chiama strain e esegue test che falliranno come sempre non so perché lo faccio ogni volta però mandiamo questo terminale in un altro desktop così possiamo mettere questo tutto schermo e apriamo il nostro codice ok queste sono le nostre due funzioni che per disco ed che hanno in ingresso una funzione un predicato e la collezione la lista allora useremo la ricorzione per per implementare queste due funzioni per cui la prima cosa che mi viene in mente è il caso in cui la lista sia vuota se la lista vuota torniamo immediatamente una lista vuota e questo mi sembra mi sembra banale quindi ignoriamo il predicato non ci interessa se la lista vuota torniamo una lista vuota ok quindi qual è il concetto qui il concetto è applicare il predicato alla testa della lista e se questo predicato ritorna false ignorare il la testa della lista scartarla se invece torna true eseguire di nuovo la funzione keep però mantenendo la testa della lista come si esprime questo intanto qui possiamo fare un pattern matching subito della lista prendendo estraendo la testa e la coda della lista in questo modo possiamo eseguire il predicato su sull'elemento in testa e discriminare nel caso in cui il predicato torni true o false in realtà ci interessa se torna tutto il resto sappiamo che è false ma può essere qualsiasi altra cosa la vogliamo vogliamo escludere l'elemento della collezione per cui nel caso che il predicato torni true quello che vogliamo ottenere quello che vogliamo ritornare è una nuova collezione includendo il l'elemento che abbiamo preso in considerazione nel nostro predicato e poi si richiama ricorsivamente la stessa funzione come lista gli passiamo all'antanto il predicato ovviamente e come lista gli passiamo ovviamente la coda in questo modo ritorniamo manteniamo manteniamo ecco manteniamo la testa della lista nella poi nella nella lista che ritorniamo alla fine della ricorsione se invece il predicato ritorna false o comunque non true semplicemente possiamo richiamare la funzione stessa ricorsivamente in questa maniera la nostra testa è scomparsa e quindi l'abbiamo diciamo scartata bene e io direi che così dovrebbe già funzionare direi di sì a facciamo la stessa cosa con con la funzione discard dove stavolta stavolta vogliamo mantenere la testa nel caso il predicato sia false e in tutti gli altri casi vogliamo scartare l'elemento in testa ok e a sto punto possiamo provarla ma sì proviamola quindi compiliamo il modulo strain per cui è strain keep vuole un predicato che è sempre la nostra funzione anonima possiamo sempre controllare che sia il numero sia pari quindi il modulo 2 se il modulo 2 è uguale a 0 e come lista sempre un 2 3 4 5 quindi dovremmo ottenere una lista contenente 2 e 4 esatto e quindi funziona discard al contrario dovrebbe ritornare 1 3 e 5 perfetto perfetto funziona quindi funzionano anche i test esatto tutti i 12 test passano e quindi l'esercizio è già già concluso ora quello che vorrei provare a fare io è scrivere una funzione che generalizzi questi due casi perché come vedete sono molto simili e quello che vorrei fare quindi essendo che in queste due funzioni in realtà l'unica cosa che cambia è è il la funzione che richiamiamo ricordissimamente quello che mi viene in mente è di parametrizzare ecco questa questa funzione quindi keep in questo caso e discard in quest'altro caso quindi ok quindi quello che voglio è una funzione generica che potremmo chiamare filter non credo che che questa collida con la funzione filtering nel modulo lists comunque vediamo se da errore a compilare comunque filter e come parametri abbiamo un predicato come come nelle altre due una lista c'è una collezione come nelle altre due e poi io direi un la funzione da richiamare ricordissimamente che potremmo chiamare potremmo chiamare op come operatore forse se dai ci sta con i nomi sono pessimo comunque scrivo direttamente il caso in cui la lista sia vuota perché in questo caso voglio tornare una lista vuota e non mi interessa il valore delle degli altri degli altri parametri scrivo un attimo per un body vuoto della funzione un attimo effettivamente cambia anche la condizione per la condizione di per cui viene mantenuta la testa della lista perché una volta nel caso sia true e una volta nel caso sia false ok per cui quello che mi viene in mente di che il terzo parametro possa essere una tupla contenente la condizione e poi la la funzione di di ricorsione l'operatore il nostro operatore quindi quindi potremmo fare quindi in ingresso diciamo che avremmo una condizione e poi la funzione ricorsiva si mi può tornare adesso comunque vediamo i dettagli dell'implementazione e poi la 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 lista la collezione come prima la faccio il pattern matching estraggo la testa e la coda qui ci va un bel punto e virgola bene ok quindi l'implementazione dovrebbe potremmo prendere ad esempio quella della della keep quindi questo rimane lo stesso eseguiamo il predicato sulla testa e se è uguale alla nostra condizione che quindi una volta sarà true una volta sarà false quello che vogliamo eseguire è il nostro operator cioè la funzione che passiamo come parametro perfetto ok mi dice che non è usata è questo bound variable in pattern bound variable in pattern non ho idea di questo warning sinceramente a cosa si riferisca se qualcuno ha idea per favore scrivetelo nei commenti comunque adesso possiamo chiamare chiamare la funzione la funzione filter primo argomento il predicato secondo argomento la collezione voglio che sia a sto punto l non mi importa che estrarre la testa in questo caso terzo argomento una tupla contenente la condizione e la funzione che dovrà essere chiamata ricorsivamente che è keep ah ecco non credo si possa fare credo credo che questo dia di a errore ma adesso vi spiego perché perché l'ho studiato di recente sul libro e vogliamo vogliamo scusate scusate quindi vogliamo chiamare filter anche nel caso della della diskguide per cui sempre il predicato la collezione stavolta la condizione di inclusione è false e vogliamo chiamare ricorsivamente la funzione diskguide quindi questo è la nostra lista ok perfetto allora non si può fare così questo non non compilerà oddio forse compila compila ma darà errore quindi test sicuramente non passano ok questo perché allora questa è una non è un questo questa string questo atomo keep è semplicemente un atomo non è un riferimento alla funzione keep se volessimo passare un riferimento alla funzione keep dovremmo usare la la keyword fun e specificare la l'arity della funzione in questa maniera e in in questo caso i test passano quindi per ricapitolare questo è semplicemente un atomo non keep in questo caso non è un riferimento alla funzione assolutamente per farlo per passare il vero riferimento bisogna passare bisogna passare con la keyword fun e specificarne l'arity e niente così abbiamo abbiamo scritto una funzione filter generica usando la ricorsione e i test passano quindi possiamo fare il submit e niente qui si conclude questo episodio e ciao al prossimo esercizio esercizio